Giosuè, questo ragazzo non è non è più Vergi, non è più Vergi, no eh no, sei sverginato, sono contento che dopo un po' ha vinto, però sono contento dai, poi i ragazzi devono correre, devono fare esperienza, per esempio ne ha montato tre, la prima era così, la terza, la seconda era così, e poi dopo sugli sbagli ci ha guadagnato e ha vinto una corsa, sono contento dai, adesso piano piano si va avanti senza montarsi la testa, no? L'importante è quello, fare i lavori che devi fare, Pancocchi l'hai visto, sono contento, molto, poi parliamo, adesso agitare qui è tutto bello, guardiamolo in piazza e guardiamo come va in piazza, però per ora sono contento, i piedi li metti giusti dai, dai per ora si, poi vediamo, in piazza cambiano i cavalli e c'è chi cambia, chi migliora e chi peggiora, però quando uno si presenta un po' bene qui, lì ci può andare bene, ci può andare bene e poi ci può andare anche male, i presupposti sono giusti insomma, eh? Sì dai, sì, 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 ok, grazie, ciao, vieni, Sverginello, vieni va, aspetta, dove è il suo, vieni di varselo? Allora? Allora? Dai, quando hai vinto? Quando hai vinto la prima sensazione? No dai, sono stato contento, perché comunque era il mio avallo, era tanto tempo che ci si perdeva tempo, poi insomma io non avevo mai vinto, sì che stava bello, stava una bella sensazione dai. Ma qualche fuscata c'è stata? No dai, davvero, non mi sono resso molto niente, no, scherzo, e dai, c'è stata un po' di parafiglia, come si può dire, a queste modi, e quest'altro ragazzo non le era tornato bene, non era andata la situazione, si vede se le è presa un po' con me, pensando, insomma, fossi il ragazzino così, li potessi prendere un po' il gioco di me, tra virgolette. Ma dopo il corsa? No, no, dopo il palo, dopo il palo, la corsa è finita, e vabbè, insomma, è quel modo, tanto. Preferivo che non succedeva, però è successo, è andata in questo modo, e festa finita, dai, no? Eh, qua abbiamo preso la spogna, non sapevo cosa venire la sera, no? No, che sì, sono andato a letto, ero stanco, sono andato a letto, alle nove ero a letto, ho portato a doccia, a letto. Vabbè, ok, dai, complimenti, poi ci rivediamo. Grazie. Ciao, Federico Fabri, e diciamolo se no è...